Un buon libro può insegnarti tanto. Leggere e ascoltare è come assimilare un'altra vita. Per questo motivo, Nightmare Before Pasquetta presenta le audioletture di Manuel. Letture in diretta per un intrattenimento sano e parzialmente erotico. Passion di Lauren Kate Capitolo 16 Il testimone Gerusalemme, Israele 27 Nissan 2760 1 aprile 1000 a.C. Daniel non era del tutto se stesso. Si trovava ancora nel corpo con cui si era fuso sui fior di bui della Bruenlandia. Cercò di rallentare uscendo dall'annunziatore, ma aveva preso troppa velocità. Sbilanciato, balzò fuori dall'ombra e ruzzolò sul terreno roccioso sbattendo la testa contro qualcosa di duro. Poi rimase immobile. La fusione con il suo vecchio sé era stata un errore. Il modo più semplice per scindere due incarnazioni fuse di una sola anima era uccidere il corpo che la conteneva. Libera dalla gabbia, l'anima ritrovava la sua strada. Ma uccidere se stesso non era un'opzione che poteva considerare. A meno che... La stella Saetta. Quando era ancora in Bruenlandia, l'aveva trafugata dal nascondiglio della neve accanto al falò degli angeli. Gabe l'aveva portata lì come protezione simbolica. Non si sarebbe mai aspettata che Daniel praticasse la fusione, né tanto meno che rubasse la stella Saetta. Davvero aveva sperato di poter usare quella punta argente e smussata per scindere la propria anima e far tornare al tempo giusto il suo sé del passato? Che stupido. No. Era molto probabile che si sbagliasse e invece di scinderla, uccidesse la sua anima per errore. Allora la forma terrena di Daniel, quel vuoto involucro, avrebbe vagato sulla terra in eterno, cercando la propria anima ma accontentandosi della migliore alternativa possibile. L'ossa. L'avrebbe perseguitata fino al giorno in cui fosse morta e forse anche oltre. Daniel aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse, ma non sapeva dove trovarlo. Con un lamento, rotolò sulla schiena, succhiudendo gli occhi ai raggi del sole. Vedi? Disse una voce femminile sopra di lui. Te l'avevo detto che eravamo nel posto giusto. Non vedo come questo, disse un'altra voce di ragazzo. Posso provare che ci siamo riusciti. Oh, andiamo, Miles. Le tue beghe con Daniel non devono impedirci di trovare Luz. Di sicuro lui sa dov'è. Le voci si avvicinarono. Daniel aprì gli occhi con una smorfia e vide un braccio che si stagliava contro la luce del sole, teso verso di lui. Ehi là, serve una mano? Shelby, l'amica Nephilim di Luz alla shoreline, e Miles, il ragazzo che Luz aveva baciato. Che cosa ci fate voi qui? Daniel si rizzò a sedere, rifiutando la mano che gli offriva Shelby. Si massaggiò la fronte e scoccò un'occhiata dietro di sé. Aveva sbattuto contro il tronco grigio di un olivo. Secondo te cosa facciamo? Cerchiamo Luz. Shelby fissò Daniel la bucca aperta e arricciò il naso. Che cosa ti ha preso? Niente. Daniel tentò di alzarsi. Ma era così stordito che dovete sdraiarsi di nuovo. La fusione, soprattutto l'aver trascinato il suo vecchio corpo in un'altra vita, gli procurava una forte nausea. Cercava di contrastare il suo sedel passato dall'interno, divincolandosi, lacerandosi l'anima contro le ossa e la carne. I Nephilim percepivano che gli era accaduto qualcosa di indicibile, se ne rendeva conto. «Tornate a casa, intrusi. De chi è l'annunziatore che avete usato per venire qui? Avete idea dei guai in cui potreste finire?» D'un tratto, uno scintillio argenteo gli balenò sotto il naso. «Portaci da l'ussa!» Miles gli stava puntando una stella saetta alla gola. La visiera del cappellino gli nascondeva gli occhi, ma la bocca era increspata in una smorfia. Daniel era sbalordito. «Sì, hai una stella saetta!» «Miles!» si bilò a Shelby. «Che cosa vuoi fare?» La punta smussata della freccia vibrò. Miles era nervoso. «L'hai dimenticata nel cortile dopo che gli esclusi se ne sono andati», disse a Daniel. «Cam ne ha afferrata una e nel caos generale nessuno ha notato che ne ho presa una anch'io. Tu hai inseguito l'ussa e noi abbiamo inseguito te», si rivolse a Shelby. «Ho pensato che ci sarebbe stata utile. Autodifesa! Non ti azzardare a ucciderlo!» intimò Shelby a Miles. «Sei un idiota!» «No», disse Daniel, mettendosi a sedere con cautela. «Va bene così!» Gli girava la testa. Quante probabilità aveva! L'aveva visto fare solo una volta in vita sua. Daniel non era esperto nella fusione, ma il suo sé passato cominciava ad agitarsi. Non poteva andare avanti così. C'era soltanto una soluzione e Miles la teneva stretta in pugno. Come poteva convincere il ragazzo ad attaccarlo senza alcuna spiegazione? E poteva davvero fidarsi dei Nephilim. Daniel indietreggiò fino ad appoggiarsi con le spalle al tronco. Si tirò su piano, le mani aperte in vista per mostrare a Miles che non aveva nulla da temere. «Hai preso lezioni di scherma?» «Che cosa?» Miles sembrava confuso. «Alla shoreline, hai seguito un corso di schermo o no?» «Come tutti. È stato piuttosto inutile e non è che fossi così bravo, ma a Daniel non serviva a sapere altro. è in guarda!» gridò, sfoderando come una spada la stella saetta che aveva tenuto nascosta. Miles spalancò gli occhi e in un istante alzò la sua stella saetta. «Oh merda!» esclamò Shelby, levandosi di mezzo. «Ragazzi, dai, fermatevi!» Le stelle saette erano più corte di un fioretto da scherma, ma qualche centimetro più lunghe di una freccia normale. Erano leggere come piume, ma dure come il diamante. Miles e Daniel dovevano usare la massima prudenza se volevano uscirne indenni, ma almeno così, con l'aiuto di Miles, Daniel sarebbe riuscito a scendersi dal suo passato. E c'è qualche passo verso il Nephilim, sferzando l'aria a colpi di stella saetta. Miles respinse il fendente di Daniel, deviando la freccia verso destra. Quando le stelle saette cozzarono, non produssero il clangore metallico tipico dei fioretti, ma un suono profondo e roboante che echeggiò fra le montagne scuotendo la terra sotto di loro. «Le tue lezioni di scherma non sono state inutili», disse Daniel, mentre la sua freccia incrociava quella di Miles. «Sono servite a prepararti per un momento simile?» «Di quale momento?» grugni Miles mentre si lanciava in un affondo, sollevando la sua stella saetta per parare quella di Daniel. «Stai parlando!» Le loro braccia si tesero allo spasimo. Le stelle saette formarono una X nell'aria. «Ho bisogno che mi liberi da una vecchia incarnazione che ho fuso con la mia anima», disse Daniel, senza tanti preamboli. «Ma che cosa?» bormorò Shelby dal bordo del campo di battaglia. Miles parve confuso e il suo braccio vacillò, la stella saetta gli scivolò di mano e finì per terra. Miles si chinò annaspando in cerca dell'arma e nel contempo scoccava occhiate terrorizzate a Daniel. «Non ti attaccherò», disse Daniel. «Devi essere tu ad attaccare me!» sfoderò un sorrisetto di sfida. «Avanti!» «So che vuoi farlo!» «E farlo da un sacco di tempo!» Miles caricò, afferrando la stella saetta come un pugnale, non più come una spada. Daniel era pronto, scartò di lato l'ultimo momento e si volse per parare la stella saetta di Miles. Si bloccarono. Daniel puntava la stella saetta oltre la spalla di Miles e usava tutte le sue forze per tenerlo a bada. Il Nephilim, da parte sua, impugnava la freccia ed appena un paio di centimetri dal cuore di Daniel. «Mi aiuterai?» chiese Daniel. «E noi che cosa ci guadagniamo?» chiese Miles. «Daniel, dovete pensarci per qualche istante!» «La felicità di Luz!» rispose alla fine. Miles non disse di sì, ma nemmeno di no. Adesso, la voce di Daniel tremava nel dettare le istruzioni, con molta attenzione. «Sposto la lama in linea retta fino al centro del petto. Non lacerare la pelle, o mi ucciderai!» Miles sudava. Il suo volto era pallido. Scoccò un'occhiata a Shelby. «Fallo, Miles!» sussurrò lei. La stella saetta tremò. Dipendeva tutto dal Nephilim. L'estremità smussata toccò la pelle di Daniel e scese verso il basso. «Oh mio Dio!» Le labbra di Shelby si piegaro in una smorfia di ribrezzo. «Sta perdendo la pelle!» Daniel ebbe la netta sensazione che gli stesse staccando delle ossa. Il corpo del suo se precedente a poco a poco si stava scendendo dal proprio. Il fiele generato dalla separazione lo pervase, insinuandosi fin nelle fibre delle sue ali. Il dolore era così viscerale da dargli la nausea, mentre si riversava dentro di lui a ondate. La vista gli si offuscò, le orecchie gli ronzavano, la stella saetta che teneva in mano cadde a terra, poi all'improvviso avvertì una forte spinta e una sferzata d'aria fredda, udì un lungo lamento, due tonfi, e poi la vista gli si schierì. Il ronzio cessò. cessò. Si sentì leggero, lucido, libero. Miles era riverso a terra davanti a lui, ansimante. Daniel si volse e vide lo spettro del suo sé passato in piedi dietro di lui, un corpo evanescente dalla pelle grigia, gli occhi e i denti neri come il carbone, la stella saetta stretta in pugno. Il suo profilo tremolò nell'aria fosa come l'immagine distorta di un televisore guasto. Mi dispiace, disse Daniel, avvicinandosi al suo sé del passato per afferrarlo sotto le ali. Quando sollevò da terra l'ombra di se stesso, avvertì la fragilità e l'inconsistenza di quel corpo. Le sue dita trovarono il portale grigio dell'annunziatore attraverso cui i due Daniel avevano viaggiato, appena prima che si sfaldasse. Arriverà anche il tuo giorno, disse. Poi spinse il suo vecchio sé nell'annunziatore. Osservò il buco nero sviadire nel sole abbagliante. Il corpo produsse un sibilo prolungato mentre cadeva nel gorgo del tempo. Come se stesse precipitando da una scogliera, l'annunziatore si sfaldò in frammenti infinitesimali e svanì. Ma che diavolo è successo? Chiese Shelby, aiutando Miles a rimettersi in piedi. Il Nephilim era pallido come un lenzuolo. Si pissava le mani a bocca aperta, girandole e rigirandole come se le vedesse per la prima volta. Daniel lo guardò. Grazie. Gli occhi azzurri di Miles erano colmi di entusiasmo e terrore. Come se sperasse di cavare a Daniel ogni dettaglio su quanto era appena successo, ma non volesse mostrare la propria eccitazione. Shelby era mutolita, un evento senza precedenti. Fino ad allora Daniel aveva disprezzato Miles e ce l'aveva con Shelby per aver portato gli esclusi dritti da Luz. Ma in quel momento, sotto l'olivo, riuscì a capire perché Luz fosse diventata amica di entrambi e ne fu lieto. Un corno gemette in lontananza. Miles e Shelby vi sobbalzarono. Era uno sciofar, un sacro corno di montone che emetteva una prolungata nota nasale. Spesso veniva usato per annunciare feste solenni e funzioni religiose. Daniel non si era ancora guardato intorno a sufficienza per rendersi conto di dove erano finiti. I tre si trovavano sotto l'ombra frastagliata di un olivo, in cima a un'altura. Davanti a loro la collina degradava in un'ampia vallata pianeggiante, coperta di erba alta e rossiccia, mai tagliata dall'uomo. Al centro della vallata in una sottile striscia verde costellata di fiori selvatici scorreva un piccolo fiume. A est del corso d'acqua sorgeva un modesto accampamento di tende rivolte verso una costruzione più grande e squadrata con pareti di pietra bianca e il tetto di rami intrecciati. Il richiamo dello sciofar doveva essere giunto da quel tempio. Una fila di donne avvolti in lunghi mantelli dai colori vivaci entrava e usciva dal tempio. Trasportavano bocche d'argilla e vassoi di bronzo colme di cibo come per allestire un banchetto. Oh, disse Danny la voce alta pervaso da una profonda tristezza. Oh, cosa? gli domandò Shelby. Danny lafferò il cappuccio della felpa mimetica di Shelby. Se state cercando luce non la troverete qui. È morta. È morta un mese fa. Miles rimase senza fiato. Vuoi dire la luce di questa vita? disse Shelby. Non la nostra, giusto? La nostra luce, la mia luce non è qui. Non ha mai nemmeno conosciuto questo posto. perciò i suoi annunziatori non la porteranno mai qui e nemmeno il vostro avrebbe dovuto. Shelby e Miles si scambiarono un'occhiata. Hai detto che stai cercando lussa, disse Shelby. Ma se sai che non è qui, perché sei ancora da queste parti? Danny la lungò lo sguardo verso la valle sotto di loro. Questione in sospeso. È quella chi è? domandò Miles indicando una donna alta e longilinea con una chioma rossa che brillava alla luce del sole. Indossava un abito bianco lungo e scollato che lasciava scoperta un'ampia porzione di pelle dorata. Canticchiava una melodia dolce e sommessa, la strofa di una canzone che si udiva a stento. Quella è Lilith, disse piano Daniel. Oggi dovrebbe sposarsi. Miles fece qualche passo lungo il sentiero che dall'olivo scendeva verso la valle in cui si trovava il tempio, una trentina di metri più in basso per guardare meglio. Miles, aspetta. Shelby si precipitò dietro di lui. Qui non è come a Las Vegas. Questa è un'altra epoca o qualcosa del genere. Non puoi metterti a scodinzolare dietro la prima bellezza che vedi come se fossi a casa tua. Si voltò a guardare Daniel in cerche di aiuto. State giù, ordinò Daniel. Così sarete nascosti dall'erba e quando ve lo dico io fermatevi. Scesero con cautela lungo il sentiero fermandosi vicino all'argine del fiume dal lato opposto rispetto al tempio. Le tende della piccola comunità erano state decorate con ghirlande di calendule e fiori di ribes. Si sentivano le voci di Lilith e delle altre ragazze che la stavano aiutando a prepararsi per il matrimonio. Le ragazze ridevano e cantavano insieme a lei mentre le intrecciavano i lunghi capelli rossi in una corona intorno alla testa. Shelby si voltò verso Miles. Non ti ricorda la Lilith che c'è in classe nostra alla Shoreline? No, rispose subito Miles. Studiò la sposa per qualche istante. Beh, forse un pochino. inquietante. Magari Lusser non te ne ha mai parlato spiegò Shelby a Daniel. È una stronza diabolica. Ci credo disse Daniel. La vostra Lilith probabilmente appartiene a una lunga stirpe di donne malvace. Sono tutte discendenti della madre originaria Lilith che fu la prima moglie di Adamo. Adamo ha avuto più di una moglie chiese Shelby sbalordita. Che cosa mi dici di Eva? È stato prima di Eva. Prima di Eva? Non direi mica sul serio. Daniel annuì. Non erano sposati da molto quando Lilith lo lasciò. Adamo ne ebbe il cuore spezzato. Aspettò il suo ritorno per molto tempo ma alla fine incontrò Eva. e Lilith non perdonò mai Adamo per averla dimenticata. Rascorse il resto dei suoi giorni vagando sulla terra e maledicendo la famiglia che Adamo ed Eva avevano costruito. Quanto alle sue discendenti a volte nascono con un'indole buona ma alla fine beh la mela non cade mai troppo lontana dall'albero. Un bel casino commentò Miles nonostante fosse ipnotizzato dalla bellezza di Lilith. Stai dicendo che Lilith la ragazza che mi ha dato fuoco ai capelli in bluma superiore potrebbe essere una stronza diavolica in senso letterale che ha fatto bene a scagliare contro i miei riti voodoo suppongo di sì Daniel scrollò alle spalle non mi sono mai libri di angelologia la shoreline accenna questa storia chisss miles indicò il tempio Lilith aveva lasciato le sue dammigelle a ultimare le decorazioni per il matrimonio stavano sforbagliando papaveri gialli e bianchi vicino all'entrata del tempio e legavano fiocchi a campanelle d'argento e rami più bassi delle querce e si era diretta verso il fiume verso il nascondiglio di daniel shelby e miles in mano aveva un mazzo di gigli bianchi quando raggiunse la sponda strappò alcuni petali e li sparse sull'acqua senza smettere di canticchiare sottovoce poi si volse e risalì il corso del fiume verso un enorme vecchio corrupo i cui rami si piegavano fino a toccare l'acqua sotto le fronde sedeva un ragazzo intento a fissare la corrente teneva le lunghe gambe rannicchiate contro il petto e un braccio sulle ginocchia con l'altra mano lanciava sassi nell'acqua gli occhi verdi spiccavano sulla pelle abbronzata del viso i capelli corvini erano arruffati e umidi da un bagno recente oh mio dio eh l'esclamazione di shelby fu stroncata dalla mano di daniel che le tappò sì è cam ma non il cam che conoscete voi è una versione precedente ci troviamo nel passato migliaia di anni prima del vostro tempo gli occhi di miles si ridussero a due fessure ma è comunque malvagio no disse daniel non lo è come che ci shelby c'è stato un tempo in cui eravamo tutti parte della stessa famiglia cam era mio fratello non era cattivo non ancora forse non lo è nemmeno adesso da un punto di vista fisico c'era un'unica differenza tra questo cam e quello che shelby e Miles conoscevano l'assenza l'assenza sul collo del tatuaggio con il sole nero che satana gli aveva impresso quando si era schierato dalla parte dell'inferno per il resto cam aveva lo stesso aspetto tuttavia il volto di questo cam del passato era tormentato dalla preoccupazione un'espressione che Daniel non gli vedeva da millenni probabilmente da quel momento Lilith si fermò le spalle di cam e gli cinse il collo con le braccia usandogli le mani sul cuore senza voltarsi né dire una parola cam alzò le braccia e strinse le mani di lei nelle sue entrambe chiusero gli occhi felici sembra una cosa piuttosto intima osservò Shelby non dovremmo insomma mi sento in imbarazzo allora andate via disse Daniel ma fate piano si interruppe qualcuno si stava avvicinando alla coppia un giovane alto e abbronzato che indossava una lunga veste bianca aveva in mano uno spesso rotolo di pergamena teneva la bionda testa china ma si capiva chi era Daniel io resto gli occhi di miles erano inchiodati ai Daniel del passato aspetta credevo che avessimo appena rispedito quel tizio nell'annunciatore disse Shelby confusa quella era una mia versione più recente rispose Daniel una mia versione più recente dice lui replicò Shelby con una smorfia quante versioni di Daniel ci sono quella di prima veniva da duemila anni dopo il momento in cui siamo ora e è comunque mille anni nel passato rispetto a noi quel Daniel non avrebbe dovuto essere qui quindi ora siamo di tremila anni nel passato domandò Miles sì e voi due non dovreste esserci affatto Daniel guardò Miles ma quell'antica versione di me disse indicando il ragazzo che si era fermato accanto a Cam e Lilith vive il suo tempo dal lato opposto del fiume Lilith sorrise come stai Dani videro Dani inginocchiarsi accanto alla coppia e srotolare la pergamena Daniel ricordò era il contratto di matrimonio era stato lui stesso a ridigerlo in aramaico e avrebbe dovuto celebrare la funzione Cam glielo aveva chiesto mesi prima Lilith e Cam lessero l'intero documento stavano bene insieme ricordò Daniel lei componeva canzoni per lui e trascorreva ore a raccogliere fiori di campo per intrecciarli ai vestiti di lui Cam le dava tutto se stesso ascoltava i suoi sogni e la faceva ridere quando era triste entrambi erano un tantino volubili e quando discutevano l'intera tribù li sentiva ma nessuno dei due era ancora quell'anima nera in cui si sarebbero trasformati dopo la rottura questa parte osservò Lilith indicando una riga del testo dice che ci sposeremo sulla riva del fiume ma sai che voglio sposarmi nel tempio Cam Cam e Daniel si scambiarono un'occhiata Cam prese la mano di Lilith amore mio ti ho già detto che non posso rifiuti di sposarmi al cospetto di Dio ricchiò Lilith con una nota tagliente nella voce nell'unico posto in cui la mia famiglia approverebbe la nostra unione perché wow sussurra Shelby sull'arrivo opposta del corso d'acqua ho capito cosa sta succedendo Cam non può sposarsi nel tempio non può nemmeno metterci piede perché anche Miles cominciò a bisbigliare se un angelo caduto entra nel santuario di Dio il luogo prende fuoco all'istante concluse Shelby i nefili avevano ragione ovviamente ma Daniel si sorprese della propria frustrazione Cam amava Lilith e Lilith amava Cam avevano l'opportunità di vivere la loro storia e per quanto lo riguardava al diavolo tutto il resto perché Lilith insisteva tanto per sposarsi nel tempio perché Cam non riusciva a spiegare il suo rifiuto io io non entro in quel luogo disse Cam indicando il tempio Lilith era sull'orlo delle lacrime allora non mi ami ti amo più di quanto avrei mai pensato possibile ma questo non cambia nulla il corpo magro di Lilith parve compiarsi di rabbia riusciva a percepire il rifiuto di Cam non era un semplice capriccio Daniel pensò di no Lilith strinse i pugni e lanciò un lungo grido assordante che fece tremare la terra afferrò i pulsi di Cam e lo rinchiodò all'albero lui non oppose la minima resistenza a mia nonna non sei mai piaciuto le sue braccia tremavano mentre lo teneva bloccato ha sempre detto cose terribili su di te e io ti ho sempre difeso ma ora me ne accorgo anch'io dai tuoi occhi e dalla tua anima lo trafisse con lo sguardo dillo dire cosa chiese Cam inorridito sei un uomo malvagio sei so cosa sei era ovvio che Lilith non lo sapeva si stava aggrappando alle voci che circolavano nella comunità che lui praticava la magia nera che era uno stregone un seguace dell'occulto tutto ciò che voleva era sentire la verità per bocca di Cam Daniel sapeva che Cam avrebbe potuto dire la verità a Lilith se solo non avesse avuto paura nemmeno una delle cose malvagie che pensa la gente è vera Lilith disse Cam era vero e Daniel ne aveva la certezza eppure parve una misera pucia Cam era sul punto di prendere la decisione peggiore di tutta la sua vita eccolo lì il momento che aveva spezzato il cuore di Cam al punto da corromperlo e trasformarlo in un'anima marcia Lilith lo supplicò Dani allontanando le mani di lei dalla gola di Cam lui non è Dani lo ammonì Cam niente di ciò che dirai potrà mettere le cose a posto ha ragione è finita Lilith lasciò la presa e Cam cadde all'indietro nella polvere lei afferrò il contratto matrimoniale e lo scagliò nel fiume la pergamena fu trascinata dalla corrente si avvolse su se stessa e affondò spero di vivere mille anni e di avere mille figlie così che possa esistere sempre una donna che maledica il tuo nome gli sputò in faccia poi si voltò e corse verso il tempio il vestito bianco che ondeggiava come una vela dietro di lei il viso di Cam divenne bianco come l'abito noziale di Lilith chiese la mano verso Dani perché lo aiutasse a rimettersi in piedi hai hai una stella saetta Dani no la voce di Dani vacillò non parlare così tornerà da te altrimenti sono stato ingenuo a pensare di poter amare una donna mortale come se nulla fosse se solo glielo avessi detto replicò Dani dirglielo dirle quello che mi è successo che è successo a tutti noi la caduta e tutto il resto Cam si avvicinò a Dani forse ha ragione su di me l'hai sentita l'intero villaggio crede che io sia un demone anche se non osano pronunciare quella parola loro non sanno nulla Cam si volse per tutto questo tempo ho cercato di negarlo l'amore è impossibile Dani no non lo è lo è per anime come le nostre lo capirai potrai resistere più a lungo di me ma lo capirai alla fine saremo entrambi costretti a scegliere no non essere così precipitoso fratello Cam strinse la spalla di Dani io mi preoccupo per te non pensi mai di passare dall'altra parte Dani si allontanò con uno strattone io penso a lei e soltanto a lei con tuoi secondi che mi separano da riaverla con me e io scelgo lei come lei sceglie me quanta solitudine non è solitudine grido Dani è amore quell'amore che anche tu vuoi volevo dire che io sono solo e molto meno nobile di te devo di essere sull'orlo che è un grande cambiamento no Dani si avvicinò a Cam non lo faresti Cam voltò la testa e sputò a terra non tutti siamo così fortunati da essere legati al nostro amore da una maledizione Daniel ricordava quell'insulto gratuito che l'avevo reso furioso eppure nonostante tutto non avrebbe dovuto pronunciare le parole che erano seguite allora vai nessuno sentirà la tua mancanza te ne pentì subito ma era troppo tardi Cam raddrizzò le spalle e distese le braccia quando le sue ali si spiegarono sollevarono una vampata d'aria calda che smosse l'erba in cui erano nascosti Daniel, Shelby e Miles tutti e tre guardarono in alto le sue ali erano enormi lucenti e... aspetta un attimo bisbiglia Shelby non sono dorate Miles batte le palpebre come può essere? era naturale che i Nephilim fossero confusi avevano sempre saputo che la distinzione tra i colori delle ali era chiara come quella tra il giorno e la notte dorate per i demoni bianche e argente per gli altri ed il Cam che conoscevano loro era un demone Daniel non era dell'umore adatto per spiegare a Shelby come mai le ali di Cam fossero di un bianco puro e luminoso brillanti come diamanti scintillanti come la neve baciata dal sole il Cam di quell'epoca non era ancora passato dall'altra parte era ancora sulla linea di confine quel giorno Lilith aveva perduto Cam come innamorato Daniel lo aveva perduto come fratello da quel momento in poi sarebbero stati nemici Daniel avrebbe potuto fermarlo se non avesse voltato le spalle a Cam se non avesse spiegato le proprie ali con uno scudo nel modo in cui vedeva fare a Dani avrebbe dovuto smaniava dal desiderio di balzare fuori dai cespugli e fermare Cam come sarebbero state diverse le cose le ali di Cam e Dani non erano ancora attratte dallo struggente magnetismo reciproco tutto ciò che si teneva a distanza in quel momento era un'ustinata divergenza d'opinioni una filosofica rivalità tra fratelli i due angeli si staccarono da terra i due angeli si staccarono da terra nello stesso momento rivolti in direzioni opposte perciò quando Dani si alzò in cielo verso est Cam spiccò il volo verso ovest i tre anacronismi nascosti nell'erba furono i soli a scorgere il bagliore dorato comparso sulle ali di Cam come la scarica elettrica di una folgore grazie per aver ascoltato le audioletture di Manuel letture in diretta Twitch disponibili in replica su YouTube grazie per aver guardato il video